Tifosi, rimanete fino alla fine del video per capire tutto sull'argomento. Ma prima, vi ricordo che il vostro contributo al canale fa la differenza, detto questo, cominciamo. I bianconeri hanno compiuto il loro primo passo sul mercato delle trasferimenti prima ancora dell'inizio ufficiale della sessione invernale. Il giovane Vasily Azik, indicato come il nuovo Kevin De Brune, sta per chiudere un contratto con la Juventus. Infatti, la Juve ha raggiunto un accordo con il Buduknost Pogiorica, proprietario del talentuoso centrocampista di 17 anni. L'affare è stato definito nel seguente modo. Il Buduknost riceverà una somma di circa 5 milioni di euro, tra la parte fissa e il bonus, e ulteriori 10% su qualsiasi rivendita futura. Vasily Azik sarà a Torino la prossima settimana per sostenere esami e essere presentato ufficialmente dalla Juventus. L'acquisto di Azik è un affare importante. Ricordiamo che il giovane giocatore era seguito da tutte le squadre più importanti d'Europa. È stata una mossa azzeccata da parte della Juventus ingaggiare Vasily Azik? Cosa ne pensi di questo acquisto?